bonus spesa e bonus bambini è partita la consegna porta a porta pesaro piange la scomparsa di ornella pucci ettore franca edo ziccarelli incendio a valle foglia distrutto l'ufficio di un'agenzia assicurativa commercio in crisi continuano a chiudere negozi nel centro pesarese una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera in cui vi proponiamo tutte le principali notizie della provincia di pesaro e urbino notizie di oggi lunedì e 16 novembre che partono dalla consegna di migliaia di voucher per bonus spesa e bonus bambini che il comune ha messo a disposizione delle famiglie della città utilizzando in questa maniera il milione di euro ricevuto dal governo che ha riconosciuto pesaro fra le città più colpite dalla prima ondata di covid 19 vediamo il nostro primo servizio domenica in una casa di via vico a muraglia è suonato il campanello e alla porta c'era matteo ricci così il primo cittadino ha consegnato i primi voucher per bonus spesa e bonus bambini richiesti da 6.000 famiglie pesaresi il sindaco ha fatto da prepista dopodiché un enorme rete di volontari di quartiere ha cominciato la consegna porta a porta quartiere per quartiere ad ogni abitazione che ha fatto richiesta dei bonus che il comune ha messo a disposizione della cittadinanza dopo aver ricevuto un milione di euro dal governo una cifra con cui lo stato ha riconosciuto pesaro come una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia per tasso di contagi ed eccessi una fitta rete di volontari raggiungerà porta a porta durante tutto l'arco della settimana 1.600 case in cui è stato richiesto il bonus spesa per nuclei familiari in difficoltà economica e 4.700 famiglie che riceveranno invece i buoni da 100 euro complessivi per i propri figli da 0 a 14 anni abbiamo deciso di dare questo milione di euro tutto ai cittadini abbiamo scelto tre fasce con Sara Mengucci abbiamo individuato le famiglie più in difficoltà che hanno ricevuto i buoni spesa sono state circa 1.700 le famiglie che hanno ricevuto che riceveranno i buoni spesa di circa 230 240 euro di media a famiglia e quindi abbiamo fatto una grande operazione sociale poi con Giuliana Ceccarelli abbiamo cercato di dare una mano ai bambini e sono 4.700 bambini che stanno ricevendo il buono il buono crescita 100 euro a bambino per spendere in tutte le cose che servono per la crescita dei bambini dalle spese dell'istruzione ai libri quaderni computer e il tempo libero per la crescita sportiva musicale o culturale e quindi una grande operazione a sostegno delle famiglie e poi con Francesca Franco e Luce abbiamo deciso di orientare almeno 100 mila euro sulle imprese che sono proprio a terra quelle piccole imprese che hanno avuto un calo del fatturato maggiore dell'85 per cento una grande operazione sociale una grande operazione per la crescita e una grande operazione fatta con grande velocità perché dopo 20 giorni con l'autocertificazione già siamo oggi a distribuirlo a distribuirli tutti e lo facciamo grazie a una grande rete di volontari coordinata da Mila della Dora che in queste ore sta andando in tutti i quartieri famiglia per famiglia a consegnare questi buoni e Pesaro piange la scomparsa di tre suoi illustri concittadini sono infatti venuti a mancare Ornella Pucci Ettore Franca e Edoardo Ziccarelli Ornella Pucci 64 anni è morta questa notte dopo aver combattuto tante battaglie per il territorio in 25 anni trascorsi da presidente dell'Arci Provinciale e poi dell'Arci Regionale laureata in Gia Lapucci è stata anche assessore comunale ai servizi sociali e donna costantemente impegnata a livello politico ma anche culturale tant'è che fu la ideatrice della fortunata rassegna BOF Burattini Opera Festival. Ma Pesaro piange anche la scomparsa di un grande uomo di cultura come il professor Ettore Franca venuto a mancare ieri all'età di 78 anni. Franca è stato agronomo giornalista e stimatissimo docente all'Istituto Agrario Cecchi e alla Università di Urbino. È morto invece sabato all'età di 75 anni Edoardo Ziccarelli per tutti Edo, anima della vela e della marineria pesarese e grande protagonista con la sua imbarcazione moonshine della Pesaro Rovigno fin dalla invenzione della regata fra le due sponde dell'Adriatico così come Ziccarelli ha tenuto alto l'onore della vera in tutte le principali regate del Mediterraneo. Ziccarelli conosciutissimo in città era titolare del negozio La Nautic Store in strada fra i due porti e proprio nella chiesa del porto si terrà mercoledì il suo funerale alle 10 e un quarto di mattina. E c'è stato un incendio ieri a Vallefoglia attorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un erogo che non ha coinvolto persone ma devastato l'ufficio di una nota agenzia assicurativa situata nel centro commerciale di Montecchio di via Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro automezzi, l'ufficio è stato letteralmente distrutto e le fiamme hanno pesantemente intaccato pure il soffitto rendendo inagibile l'appartamento al piano superiore. Da chiarire le cause dell'incendio ma è probabile che si sia trattato di un corto circuito. Ancora cronaca perché il nostro Marco Cadedu ha intervistato il capo della squadra mobile di Pesaro Eleonora Cognigni in merito ad una operazione di polizia che ha portato all'arresto di alcuni ladri di volanti e accessori di automobili BMW. L'indagine è iniziata perché nell'ultimo periodo c'è stata una forte diciamo recrudescenza di furti di componentistica elettronica e strutturale dall'interno di auto di alta gamma. Ovviamente incuriositi da questo particolare tipo di furti abbiamo approfondito i singoli furti che c'erano stati e questo ci ha portato sulle tracce di alcuni soggetti che erano sospettati di poter essere i probabili responsabili dei reati. Proprio nella notte dell'11 novembre scorso siamo riusciti a intercettare i responsabili di questi furti durante la notte e avevano appena compiuto ben 5 furti. In flagranza di reato siamo riusciti anche a recuperare tutta l'area furtiva che era stata diciamo prelevata dalle auto nell'arco della nottata. Probabilmente erano destinati ad alimentare il mercato nero o comunque mercati paralleli. Probabile che siano destinati all'estero infatti ma anche in Italia è probabile ma siamo riusciti ad intercettarli prima che potessero affrontare un lungo viaggio per l'est Europa. Possiamo tranquillizzare adesso i pesaresi proprietari di BMW? Siamo riusciti con la perfetta sinergia che c'è tra forze di polizia e autorità giudiziaria a bloccare questo fenomeno molto fastidioso e anche direi inquietante e soprattutto in un periodo storico molto delicato dal punto di vista economico. E proprio le forze di polizia per vigilare in merito alle restrizioni derivate dal governo nella nuova zona arancione ha effettuato sabato e domenica 1.312 controlli, 822 a persone e 490 ad attività e esercizi commerciali. 16 i verbali elevati fra cui una sospensione di somministrazione di alimenti e bevande e due persone deferite alla autorità giudiziaria. Ed ora i dati relativi all'aggiornamento del covid-19 nella regione Marche che come ogni lunedì presenta un quantitativo ridimensionato di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati testati 1.620 tamponi, 928 nel percorso nuove diagnosi e 692 nel percorso guariti. I positivi sono 282 nel percorso nuove diagnosi di cui 22 in provincia di Pesaro e Urbino. Nelle Marche sono dunque 577 i ricoverati di cui 78 quelli in terapia intensiva. E c'è stato un flash mob ieri a Fano contro il repentino passaggio delle Marche da zona gialla a zona arancione. Al Pincio si sono ritrovati circa 150 imprenditori della ristorazione e di altre attività. Al grido di senza preavviso hanno manifestato il proprio dissenso attraversando il centro storico. Vediamo il servizio di Simone Celli. Cartelli arancioni proprio come le Marche. E' uno slogan che parla chiaro senza preavviso. Ai circa 150 manifestanti che si sono incontrati domenica al Pincio di Fano non è affatto piaciuta alla decisione del governo di cambiare colore alla nostra regione in poco più di 24 ore. Costringendo diverse attività ad abbassare la sala cinesca per almeno 15 giorni e a riorganizzarsi in fretta e furia tra sporto e consegne a domicilio. Per non parlare di chi è già chiuso da un po' e che vede sempre più lontana la famosa luce in fondo al tunnel. A protestare infatti non c'erano soltanto baristi e ristoratori. A fianco di Ristor Italia c'erano tra gli altri anche titolari di palestre, piscine e discoteche per un flash mob pacifico ma carico di indignazione che ha invaso il centro storico dopo aver anche invaso la rotatoria a fianco del Pincio dove i titolari delle attività hanno lanciato il loro grido di dolore attraverso un megafono distribuendo volantini agli automobilisti di passaggio. Il problema è che il passaggio da zona gialla a zona arancione non è stato soltanto rapido ma anche tutt'altro che indolore. Basti pensare ai ristoranti che venerdì pomeriggio avevano già fatto la spesa per il pranzo di domenica poi lo stop imposto dal governo con buona pace delle dispense e dei soldi spesi per riempirle. Quello che è accaduto è a dir poco inaudito e sgradevole nei confronti della dignità del lavoro di tutti noi perché abbiamo saputo come ormai è famosa la cosa venerdì di un cambio di rotta da zona gialla a zona arancione con l'ultimo momento notizia da parte del ministro salute che ha chiamato il governatore della regione e noi tutti abbiamo dovuto tirare un freno a mano con acquisti ormai in corsa e una domenica impossibilitata al lavoro. Quindi quello che noi abbiamo dimostrato, quello che stiamo dicendo è che ormai la consapevolezza del dramma del Covid da mesi e mesi che sta colpendo gran parte dei cittadini la conosciamo bene e i protocolli li abbiamo sempre rispettati ma non è più accettabile che si prosegua in questi termini e che abbiamo notizie ogni tre per due giocando un pochino il governo a risico con la dignità al lavoro di tutti noi operatori. Cosa chiedete? Noi chiediamo che ci sia un'apertura di dialogo visto che nessuno ci ha rappresentati fino ad ora e vogliamo essere rappresentati, ci rappresentiamo noi stessi, vogliamo un dialogo per mantenere equilibrato quello che è un aspetto di rispetto della sanità con quello che è il valore economico perché questa cosa potrebbe perdurare ancora mesi e mesi o anche un anno, quindi non possiamo permetterci di mantenere le cose così ma neanche lo Stato può, quindi abbiamo già capito tutti fortemente che i locali aperti anche fino alle 22, alle 23 non soltanto non creano un danno ma oltremodo è il contrario, noi diluiamo così la gente e abbiamo monitoraggio, abbiamo censimento e così è tutto molto più tranquillo e noi veniamo contro al valore della regolamentazione delle situazioni, è una tutela maggiore. Da Fano a Pesaro sabato a scendere in piazza sono stati invece gli studenti e i precari della città come ci mostra il prossimo servizio di Marco Cadendu. Studenti, precari, lavoratori dello spettacolo, riuniti questa mattina in piazza per esprimere il loro disappunto e la loro protesta nei confronti del governo per le ultime misure prese. Le Marche da ieri, Regione Arancione, quindi ancora di più sotto stress e soprattutto ascolteremo la voce di coloro che frequentano la scuola, coloro che sono stati privati di una formazione e sono stati costretti soltanto a delle valutazioni come sicuramente esprimeranno più tardi nei loro interventi. Questa manifestazione è partita in primis da un'esigenza studentesca che poi appunto si è stesa in tutte le scuole di Pesaro e abbiamo deciso anche di coinvolgere i lavoratori perché noi ci sentivamo assolutamente colpiti dalla crisi ma sicuramente non eravamo gli unici, non siamo gli unici. Contrarissimi quindi alla didattica a distanza? Contraria alla didattica a distanza fino a un certo punto comprendiamo lo stato emergenziale e infatti secondo noi la didattica a distanza è appunto un tipo di didattica da usare in uno stato di emergenza, di nuovo un'emergenza che poteva essere evitata e sicuramente la didattica a distanza non garantisce il diritto allo studio e quindi chiediamo al governo nuove riforme, chiediamo al governo un potenziamento delle strutture scolastiche, basta tagliere la scuola anzi investire sempre di più nell'istruzione per cercare di tornare in presenza il prima possibile. La manifestazione di oggi è per rappresentare appunto tutte quelle categorie di lavoratori che negli ultimi anni sono stati creati attraverso le varie riforme del lavoro che hanno smantellato i diritti dei lavoratori e quindi l'apice raggiunto con il job act e quella di oggi è la manifestazione per rappresentare la condizione a cui sono costretti le nuove generazioni che sono coloro che negli ultimi anni sono costretti a pagare le crisi economiche. Quella di oggi, la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria potrebbe rappresentare la crisi più grande negli ultimi anni e le decisioni istituzionali propongono sempre la stessa ricetta e cioè far pagare questa crisi alle nuove generazioni e ai lavoratori più precari. A Pesero in questo weekend oltre all'entrata in vigore della zona arancione è stato sperimentato per la prima volta in assoluto il senso di marcia obbligato in centro storico. Via Branca, Via Rossini e il corso 11 settembre sono stati incanalati a senso unico da transenne segnaletica orizzontale che direziona il transito pedonale e vigilanza a regolamentare il rispetto dell'ennesima norma di contenimento al contagio da Covid-19. Una forma di contenimento al contagio che è stata immediatamente contestata dall'ennesima manifestazione di protesta del ristoratore Umberto Carriera che ieri si è reso protagonista di una cosiddetta passeggiata contromano. Carriera è infatti entrato in un negozio d'abbigliamento per fare acquisti ma si è platealmente infischiato della nuova regolamentazione stradale incappando nella quarta multa ricevuta dopo le tre sanzioni per non aver chiuso i suoi ristoranti come imposto dal DPCM. E in centro storico purtroppo c'è un altro negozio che abbassa definitivamente le serrande. Si tratta di Max & Co e noi di Rossini TV abbiamo intervistato la titolare in merito ai motivi di questa chiusura. Il periodo è quello che in più tutte le spese sono tantissime e c'è con il fatto anche queste online vari vari canali a noi ci tagliano proprio anche avere ecco insomma noi lavoriamo con le persone il pubblico ma poi il covid ci ha dato diciamo il colpo di grazia anche perché ecco noi anche se non ci hanno fatto chiudere praticamente noi non lavoriamo perché chiudendo i bar chiudendo i ristoranti noi ci ritroviamo a fare gli stessi ritrovarci nella stessa loro situazione perché è un cane che si è stato più il covid o la concorrenza dei mercati online? E' un po' lo era iniziato con l'online da prima e poi il covid ci ha dato proprio la mano definitiva. Roberto non c'è proprio nessuna speranza quindi di resistere? Io ne ho due Fano e Pesaro quello Fano cerco di di tenere duro e portarlo avanti non ho dovuto fare una scelta e Pesaro è quello che purtroppo sono stata costretta a chiudere per primo insomma spero di tenere duro con Fano. Un vero peccato veramente un pezzo di storia del commercio pesarese che viene a mancare. Sì anche perché sette anni fa ho fatto un investimento non da poco perché poi chi conosce la realtà dei franchising sono dei belli investimenti e purtroppo nessuno ti può venire incontro già poco casa madre ti viene incontro e poi tutto il resto e quindi diciamo che è anche quasi una sconfitta no perché ci metti e come un bambino lo tiri su lo cresci lo e poi alla fine. Immaginiamo le notti insonni prima di prendere questa decisione. Non so da quante che non dormo più no mi sveglia la mattina presto per cercare di capire cosa poter fare. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci attraverso un post pubblicato sul suo profilo facebook minaccia di querelare la coordinatrice provinciale di Forza Italia Elisabetta Foschi che sempre attraverso facebook pur non facendo nomi aveva scritto allusioni e sospetti riconducibili a Ricci in merito a un coinvolgimento del sindaco di Pesaro nel passaggio da zona gialla a zona arancione delle marche. Un Ricci irritato ha risposto al post definendo l'accusa ridicola e ricordando che i criteri per definire le varie zone di restrizione sono tecnici e sanitari. Ci sarebbe dunque da ridere se non c'è da piangere scrive Ricci ma durante una fase così delicata per la salute e per l'economia non si possono fare accuse tanto gravi e demenziali. Dopo le limitazioni imposte dalla didattica a distanza a scuola il consigliere regionale Andrea Biancani ha chiesto una forma di risarcimento agli abbonamenti sottoscritti da studenti e famiglie per il trasporto scolastico come ha spiegato ai microfoni di Andrea Sabatini. Io ho presentato un'interrogazione in consiglio regionale proprio per evidenziare al neossessore questa difficoltà. Già lo scorso anno i ragazzi che avevano fatto un abbonamento annuale non erano riusciti a poter utilizzare completamente il loro il loro abbonamento e quindi avevano pagato delle cifre per non poter utilizzare l'autus. Ricordo che dal mese di marzo le scuole sono state chiuse quindi per il mese di marzo aprile e maggio e anche una parte di giugno i ragazzi che non hanno utilizzato l'abbonamento. Dopodiché lo scorso anno si è deciso di fare dei voucher cioè consentire alle persone, alle famiglie di poter fare il nuovo abbonamento per l'anno 2020-2021 e di poter scalare quella cifra che non era stata utilizzata. Adesso nuovamente le famiglie hanno rifatto un ulteriore abbonamento per un altro anno e si ritrovano comunque la scuola chiusa. Devo dire che si è parlato molto della scuola dicendo che dove sarebbe rimasta aperta e poi alla fine è stata la prima a chiudere e a questo punto le famiglie per il secondo anno consecutivo si ritrovano ad aver pagato un servizio di cui non stanno beneficiando. La mia proposta è stata quella di chiedere all'assessore di non prevedere più dei voucher ma di prevedere sicuramente dei rimborsi direttamente, prevedere la possibilità di ridare i soldi. A livello regionale stiamo facendo la verifica cioè stiamo cercando di capire quanto costa tutta questa cosa ma io mi ritengo opportuno che almeno i ragazzi di quinta cioè le famiglie che hanno un ragazzo in quinta sia necessario riconoscere quello che hanno pagato quindi rimborsare completamente quella che è la cifra che hanno speso. In collegamento alle discorse famiglie, ragazzi quindi anche istruzione a scuola, anche la possibilità di richiedere di fare un voucher per quanto riguarda l'acquisto di apparecchi tecnologici. Sì, proprio in questi giorni è uscito il bando del ministero, devo dire molto importante, anche in un periodo devo dire azzeccato dove tante famiglie, tante persone sono costrette a lavorare a casa con lo smart working o comunque i ragazzi devono rimanere a casa in collegamento e collegarsi con la scuola ed è appunto uscito un bando che consente di finanziare sia l'abbonamento per la bando ultralarga oppure per l'acquisto di un pc o di un tablet. Ovviamente poter accedere a questo tipo di opportunità, ci sono tutta una serie di domande da fare e in base al reddito, ma invito anche i cittadini a verificare perché i redditi sono abbastanza alti e quindi saranno in tanti le famiglie che possono utilizzare questi bonus. Ed ora lo sport pesarese che celebra la terza vittoria nel moto mondiale di Franco Morbidelli. Sul circuito di Valencia il pilota di Babucce è arrivato primo sul traguardo davanti a Miller e Espargarò nella domenica in cui lo spagnolo Mir con il settimo posto di ieri si è laureato campione del mondo per la prima volta. Valentino Rossi ha chiuso la gara dodicesimo. Dai motori al basket non è scesa in campo la carpegna prosciutto Pesaro dopo i cinque casi di Covid-19 rilevati nella squadra di coach Repegia. Saranno decisivi i tamponi effettuati domani per capire se si potrà disputare la prossima gara con Reggio Emilia. E a causa del Covid-19 non è scesa in campo questo weekend nemmeno l'Alma Juventus-Fano per i casi di positività di massa riscontrati negli avversari del Legnago. Per lo stesso motivo il Fano rischia di veder rinviata anche la prossima gara con l'Arezzo. Ha invece giocato sabato sera la Vispesaro che a San Benedetto del Tronto ha perso 2-0 contro la Samb incappando nella terza sconfitta consecutiva dopo una settimana turbolenta che ha visto anche dimettersi il direttore generale Vlado Borrozan. Ha invece vinto e convinto l'Ital Service che al pala Nino Pizza ha battuto 4-1 Genova guadagnando il tetto della classifica grazie ad una tripletta di Cuzzolino e al gol di Jefferson. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti della nostra prima serata perché ce l'avete chiesto in tanti in queste settimane e ora ve lo riproponiamo. Alle 21.15 infatti andrà in onda l'approfondimento che abbiamo realizzato su Villa Miralfiore. L'informazione su Rossini TV vi ricordiamo che torna puntuale come sempre domattina alle 7.20 in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini. È davvero tutto per questa sera, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV.